Tante vittime che questa città ha dovuto subire per colpa dell'infamia, per colpa di questa città, nonostante tutto. Una seduta di consiglio comunale a Pagani convocata per approvare alcune delibere di interesse finanziario. I prelievi dal fondo di riserva, visto che ormai, come abbiamo già detto, le case dell'ente sono in secca. Ma una seduta consigliare che avrebbe dovuto sancire con il voto dei consiglieri comunali anche l'approvazione dei lavori e dell'affidamento della gara e della gestione della nuova illuminazione sul territorio Pagani. I punti finanziari, forse all'ordine del giorno, sono stati approvati, ma in merito alla gara di affidamento della pubblica illuminazione è successo che all'interno delle cartelle dei consiglieri comunali mancava qualche documento inerente alla gara. Per cui, stante al regolamento, il punto che riguardava l'illuminazione non si è potuto discutere né votare, causando ulteriore ritardo per la soluzione del problema illuminazione a Pagani. È stato un errore umano o una manina, visto che ormai siamo in tema, ha provveduto o non ha provveduto in merito? In tempo di manine, anche a Pagani, c'è qualche manina che evita di mettere gli atti nelle cartelline dei consiglieri comunali. Fatto sta, però, come diceva lei, questo è un provvedimento che questa amministrazione, seppure avesse deciso di farlo, avrebbe dovuto adottarlo qualche anno fa perché siamo a fine consigliatura, perché è un provvedimento che dura per vent'anni e perché oggi, a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, non si possono prendere decisioni che ipotecano il futuro dei cittadini di Pagani per vent'anni. Manca il parere che pare che fine che giorni fa c'era, ma questo io credo che l'amministrazione ha le sue responsabilità, ma le responsabilità sono anche degli uffici di chi è preposto a portare queste. Qualche manina ha tolto qualche carta dalla cartella? Ormai si parla solo di manine in Italia. Beh, insomma, io non vorrei essere l'uccello del malaugurio, però comunque se c'era e poi non c'è, qualche problema ci sarà. Ci sarà, qualcuno l'avrà fatta, scomere, senza alcune, non faccio l'azione, per l'amore di Dio. Campagna elettorale, Rita Greco sarà candidata? Vedremo, ci penserò per la candidatura. Vedrà che cosa? Se candidarmi o meno. Ah, vuole essere illuminata? Sì. Va bene, grazie.